È un anno. È un anno cosa? È un anno, che nessun umano si fa più vivo. Quindi? Sei mesi è il termine limite, un anno è l'obbio. Ci hanno abbandonati. Vuoi dire che siamo soli? Sì, siamo soli. Tutti insieme, ma soli. Beh, non è detto che sia del tutto negativo in fondo o siamo dire anche che siamo autonomi. Siamo liberi. La vita è nelle nostre mani. Il futuro ci appartiene. Come in Lost. Ti rego? Sì, come i personaggi di Lost. Anche loro erano dispersi in un'isola deserta e non appena se ne sono accorti hanno vissuto un sacco di avventure meravigliose. Davvero? Sì, vedrai che succederà anche a noi. E sorridi, che si sa mai che facciano finta di non esserci e ci stiano spiando con una telecamera per farci un nuovo virtualiti. E' era... E's... E' era... E è... E' era... E' era... E' era... Grazie a tutti